www.mesmerism.info 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 Una faccenda lunga! Sono ancora al prologo! Quando finalmente avrete trovato una compagna potrete tornare a casa così avremo una tribù invece che un'orda! Papà, come si fa a procurarti delle ragazze di tuoi? Credo che le si corteggi come fanno gli animali! Ernest! Che bel nome! Come ti sta bene? Sei così serio con punto! Io mi chiamo Griselda! Io progetto il futuro! Io penso già a tutti i bambini che nasceranno in un mondo migliore di quello che abbiamo sempre sperato! Il fuoco quando ci pare? Dove ci pare? Con poco più disturbo che premere un pulsante! Non c'è scappo! Il fuoco è dappertutto e comincia ad arrivare qui! Nooooooo! Nooo! 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 It's... A meno!